Musica Presentazione questa mattina del primo circuito regionale FISE per gli sport equestri e soprattutto per gli eventi storici. La Commissione del Comitato Regionale Toscano organizza questo primo appuntamento il prossimo weekend all'impianto Arezzo Question Center che è la prima tappa del primo circuito interregionale degli eventi storici di tradizione della FISE. Si svolgeranno delle prove con percorsi in ovale e ad otto dove i cavalieri dovranno tentare di infilare gli anelli alla quintana appunto in tre distinte categorie per cavalieri brevettati, cavalieri con patente A e ludica dove gareggeranno anche delle amazzoni. La prova è valida anche come secondo campionato toscano? Si, quest'anno saranno corse quattro tappe di cui due in Toscana ad Arezzo e già questo anche per noi è motivo di orgoglio e saranno valide come campionato toscano. La seconda edizione lo scorso anno su nove medaglie ben sette furono per appannaggio di cavalieri e giostratori Aretini per cui questo è anche un ulteriore motivo di orgoglio anche per la nostra scuola di giostratori di Arezzo. Le date che vedrà impegnata Arezzo? Sì, allora iniziamo il 26 e 27 aprile appunto, salve domenica, dopodiché ci sarà una data a maggio a Narni, poi torniamo ad Arezzo il 19 e il 20 luglio, dopodiché ci sarà la finale a Roma con data da stabilirsi, comunque nel mese di ottobre. Grazie. 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 Grazie.